Don Bosco, l'uomo di Dio, l'uomo testimone, l'uomo maestro, guida, modello, ha catturato la mia attenzione, la mia passione e per questo oggi felicemente mi trovo a essere figlia di Maria Ausiliatrice, perché in lui ho visto l'uomo che non solo parlava, ma che prima di parlare faceva, parlava con la sua vita, con il suo dono totale al Signore e ai giovani, ha fatto suo nel quotidiano lo spirito di sacrificio, di abnegazione, il dono gratuito e misericordioso, la presenza di Dio in mezzo a noi. Questo per me è stato davvero motivo di passione, motivo di sequela del Signore. In lui ho visto, come dicevo prima, Dio in mezzo a noi.